start video è difficile non lo voglio fare montato con musichette come fanno tante persone che non mi importa neanche nominare io voglio farla proprio così più naturale possibile pure con gli sbagli come diamo a roma gli sfornoni non è un video sfogo è un video soltanto dove voglio dirvi voglio farmi conoscere sono cambiato sono cambiato gli anni sono cambiato diciamo più che cambiato ho integrato delle cose che io voglio adesso esternare allora io sono raffaele partiamo da questo ok non è il personaggio è raffaele che parla poi il personaggio è raffo games che è quello che fa il gaming che è quello che è sempre se stesso però esaspera alcuni comportamenti tipo le parolacce essere sempre molto 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 ironico il prendere le cose alcune volte sul serio alcune volte no ecco questo so io praticamente raffo games e raffaele raffo games e poi creativi talk creativi talk sono sempre io solo che sono un po più serio perché ci sono delle passioni ho sempre avuto delle passioni latenti poi sono scattate fuori e voglio mostrarle voglio creativizzare il mondo che significa significare vorrei tirare fuori anche ad altre persone a tutto il mondo so che non è possibile difficile e poi non è compito solo mio se una cosa non la non si può fare una cosa però voglio tentare di tirare fuori quel piccolo puntino di creatività di emozionalità che abbiamo di base questo che è il creativi talk con raffo games se ride se scherza e si fa proprio le peggio cazzate su creativi talk no anche sì sono sempre io però lì voglio essere più serio perché faccio questo video perché intanto mi fa male il braccio e quindi abbassa un po allora sto facendo questo video perché trovo difficoltà io non non difficoltà nelle altre persone trovo difficoltà io nel nel far capire che più che altro non che che voglio che si voglio una community varia che significa una community che sappia quando è momento di scherzare e quando è momento di prendere determinati argomenti seriamente seriamente non ho una doppia personalità non sono bipolare sono una persona normalissima non ho nessun disturbo mentale solo che a differenza di tante altre persone credo prendo la vita in maniera elastica che significa significa che un giorno sti cazzi un giorno una cosa per me è importantissima quindi quello che voglio farvi capire oggi con questo video è che io sono tutto sono quello che scherza sono quello che fa le cose serie e voglio che però tutti capiate quando è il momento di fare di essere serie quando è momento di scherzare ripeto questo qui non è un problema vostro è un problema mio che significa un problema mio significa che io sì questo qui potrebbe essere un piccolo video sfogo significa che io significa che io ho paura praticamente la paura è una cosa che attira le cose è un sentimento che attira le cose infatti devo togliermela no devo voglio ecco vedete le parole quanto sono importanti voglio togliermi questa paura affrontarla di non essere preso sul serio ok visto che tanti anni tanti mi hanno conosciuto merafo games e basta dove le altre passioni latenti tipo la pittura la scrittura la lettura di testi che riguardano la filosofia orientale la psicologia le filosofie occidentali lo sciamanesimo la fotografia il cinema tutto questo qua l'arte non mi ricordo vabbè ho perso il filo discorso praticamente voglio che sia di non avere non voglio più aver paura cioè voglio voglio formulare un discorso che abbia un senso e che sia convincente per il mio inconscio voglio affrontare la paura e risolvere il problema che ho che è il seguente di non essere preso sul serio i momenti in cui faccio sul serio perché è facile prendere per scherzo quando uno gioca a videogiochi magari scappure qualche bestemmia qualche parolaccia dice che cazzo sta bene o porco invece ci sono dei momenti in cui mi piace esce mi piace essere più serio così vedete per esempio se io faccio discorso così no ma chi cazzo mi crede eh chi cazzo chi è chi è chi mi va a credere che io faccio che io sono capito che io voglio fare cose serie non è vero eh quindi lei dice che non è vero e invece invece ma perché è una sensazione mia infatti l'ho detto lo sto dicendo è una sensazione mia infatti ti farò il lavaggio del cervello ti farai il lavaggio del cervello a me piace essere lavato nel cervello ti metti là sotto così no prima abbiamo visto una puntata oddio abbiamo visto una puntata di fringe dove Walter si stava autolobotomizzando mi sono tappato gli occhi perché sono una persona molto sensibile ecco questa è proprio una cosa fondamentale la mia sensibilità mi porta a questo ad aver paura di non essere all'altezza non essere all'altezza a livello di sono potente cose cioè non me ne frega mai niente non essere all'altezza di far capire quando è il momento di scherzare e quando invece è il momento di essere seri e io queste cose le prendo molto 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 seriamente forse devo forse devo cambiare proprio io il modo di prendere le cose vero? perché io lo dico pure a lei lo dico è il modo in cui noi reagiamo che determina la nostra è il modo in cui assimiliamo l'evento assimiliamo lo stimolo che poi scaturisce la nostra emozione quindi è colpa mia vedete? colpa mia non è colpa vostra quindi è un video sfogo per video autosfogo non perché non so che titolo mettere a questo video questo è questo ragazzi io sono ho integrato Creativi Talk a Raffo Games quando prima era soltanto Raffo Games e io odiavo odiavo fare i vlog odiavo mostrare altro perché e poi tuttora tuttora dico faccio due canali distinti per avere due tipi di pubblico come dicevi tu no? due community diverse quando invece magari sempre la stessa community magari sarebbe bello no? sapere che io sono una persona che sa scherzare sa anche dire cose serie ovviamente non dovete essere d'accordo con quello che dico sempre o volete sempre vedere video giocare oppure che faccio vlog faccio quello che mi viene in mente al momento allora ho integrato praticamente alla passione per il gaming ho integrato da poco da quando siamo venuti a convivere e ho comprato casa delle piante le piante paratura lo sciamanesimo quindi mi piacerebbe costruire dei totem di legno mi piace giocare con la psicomagia perché in psicologia ho imparato che non ci sono metodi come si dice? metodi meccanici per dipende ci sono persone che hanno bisogno di metodi meccanici ci sono persone che magari hanno bisogno di metodi fuori dalla norma tipo la magia di fare un rituale ecco di fare un rituale per passare una determinata paura crescere dentro personalmente oppure cambiare delle abitudini semplicemente perché noi abbiamo delle abitudini le abitudini che sono? sono dei rituali bene io voglio già cambiato voglio che questi rituali siano insieme e cioè il gaming quindi divertirci sorridere e poi usare la nostra parte emozionale quindi sempre un'emozione però facendo altre cose tipo blog lettura di testi psicologia voglio leggervi dei testi anche molto profondi poi voglio fare anche che ti ho detto l'altro giorno? che volevo fare? oltre a leggere libri esaminare dei testi sì 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 oltre a leggere libri ecco prendere un pezzo no leggervi libri appunto prendere un pezzo ed esaminarlo in base a un contesto un piccolo contesto piccolino no? magari c'è scritto che ne so in quella parte c'è scritto noi non esistiamo perché cioè la nostra mente è da nessuna parte ma tranquilla guarda è come se stessi parlando tra amici quindi devo fare rumore ma devo fare rumore? sì stai stanza fai casino fai casino ecco e quindi ecco guardate dietro guardate dietro questo qui è il mio sfondo no? questo è il sfondo della camera d'edetto è blu la profondità il giallo è un'altra cosa il giallo è l'oro ciò che luccica il sole l'idea la creazione ecco questo voglio mischiare Creativity Talk e Raffo Games mischiati in un unico ero 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 il logo il logo del canale è il logo che sarà anche sul mio unico canale Twitch perché devo prendere il coraggio e fare questo unico canale Twitch non esisterà più Creativity Talk non esisterà più Raffo Games ma esisterà Raffo Games Creativity Talk quindi tutto attaccato quindi sarò sempre questo perché più facile più facile cioè io voglio essere Creativity Talk e Raffo Games non c'è un nome che posso perché io sono stato sempre Raffo Games e mi piace quello basta Raffo Giochi e Creativity Talk quindi però farò un canale solo un canale soltanto guardate il vero da diretta e quindi farò questa cosa unirò i canali Creativity Talk che è Raffo Games come ho fatto con questo come ho fatto con il mio profilo Instagram semplicemente ci saranno dei momenti in cui si giocherà dei momenti in cui si faranno le cose seriamente detto questo se siete arrivati fino a qui grazie per aver visto questo video spero che abbiate capito il mio stato d'animo quello che voglio praticamente farvi sapere e cioè che io sono Raffaele e come nickname sul web ho scelto inizialmente Raffo Games poi Raffo Valid Raffo perché ho detto Valid poi Raffo TV poi ho aperto Creativity Talk e poi sono tornato a Raffo Games in più Creativity Talk quindi da oggi Creativity Talk Raffo Games sarà pure su Twitch non cambia niente cambia solo il nickname ci aggiungo solo Creativity Talk quindi non cambia niente però cambierà molto cambierà molto perché voglio che voi che mi seguite capiate che ci sono dei momenti in cui se scherza dei momenti in cui non si scherza si fanno le cose per sé seriamente perché voglio diffondere delle cose che reputo propositive al fine di accrescere la nostra sensibilità nel nostro livello emozionale e non guardare soltanto a quello che reputo uno scientifico solo scientifico solo provare se non vieni in laboratorio se 2 più 2 non fa 4 non credo credere cos'è un cuscino nuovo non posso distruggere non so azzardare voglio mettere le cuscine no fermami questo non è nuovo vabbè quindi iscrivetevi al canale questo qua Creativity Talk Raffo Games pure a quell'arte su Twitch non ve li metto in descrizione sapete perché no ve li metto vabbè e mettete like perché Youtube Youtube sapete che fa gosta secondo il mio punto di vista perché ho fatto delle prove ho fatto delle prove poi magari se era un algoritmo diverso però ho fatto delle prove e secondo me Youtube gosta leggermente cioè significa che non mette tra i video consigliati gli stessi video che hanno i collegamenti a canali esterni a Youtube in descrizione o quantomeno dei canali come il mio che è piccolo e quindi quindi niente vabbè non lo so o ve li metto in descrizione mamma mia quanto si è siete proprio pigri sono pigri no c'ho le mosche in bocca fermo eh no le zanzare vabbè le zanzarette ma ogni volta che giro viene la zanzaretta no dai ah l'ho preso oh 16 minuti sono troppo sono in desabriere ma in desabriere mi sa che cazzo te frega basta ascoltano ah mettete like al video mi raccomando no no eh non si fanno queste cose no per favore per favore fermi fermi mettete dislike al video se mettete dislike mi fate più interazione sembra forse perché vai in categoria trash merda quindi mi fate interazione no non è vero non è vero vedete il video il video di malanga quasi a 300 il video sul commento di malanga che era un live di due ore quasi 300 visualizzazioni credo i video pensavo che i video lunghi nessuno li vedeva invece non li vedo allora facciamo due ore di video perché reaction creano hype capito allora così reaction reaction alle parole di me stesso oddio cosa ho detto no cosa ho detto no ma guardate cosa ho detto faccio video faccio un brodo dai allora quindi grazie per aver visto questo video proprio senza tagli senza musiche senza cose ho detto questa cosa ciao ciao ciao